Buongiorno, sto registrando e nemmeno sono cotto. Buongiorno, siamo brutti? Il primo episodio è stato quello di ieri, ora ci sarà il secondo episodio. Il sveglio è qua, a cala silenzio, la batteria è scarica, però vi volevo far vedere un pochettino dove ci siamo svegliati oggi, nel nostro bar. Non so se si vede, al mare proprio, bello, non so se si vede. La stessa, leह, non so se si vede. Non so se vede, non so se vede. Non so se vede, non so vede. Il posto è so velo. Il posto è un pochettino, quello del posto è mi knifo. va bene ragazzi allora a dopo e buongiorno ancora buongiorno allora se quello era il mio risveglio delle 6 del mattino adesso vi faccio vedere un altro risveglio a me buongiorno Ok, a dopo, a dopo, a dopo. Sono venuta a fare una passeggiata. Ah, amore mio, come se non si è affascinante con questo vestitino. Sì, infatti la romana non è cambiata. Non deve essere conferenza. Ah, troppo bella. Sì, allora, mentre noi siamo qua, sotto l'ombrellone, ci mettiamo il sole, vi faccio vedere una cosa che ho fatto. Guardate, guardate. Si apre, non lo stai. E c'è Emanuele. Emanuele. Ciao. Voilà! Sì. Ma guardate Emanuele com'è combinato. Tranquillo. Guarda su, è un intento. E vai, si comincia? La connessione è pure perfetta. Benissimo. E ora cominciamo. Bello vero, bello vero. Che stupendo. Devo evolvermi, voglio evolvermi. Ok. Oh, c'è un Charmander. Ciao Charmander. Buon pranzo a noi. Buon pranzo. Buon pranzo. Buon pranzo. Buon pranzo. Ecco, ok. Ciao. No. Ragazzi, qualcuno si sta cercando. No. Ma chi sarà? Io ho un'altra vita. Un'altra vita? Ok. Sei un'agenda? No. No. Che sei? Sono l'amante di un milionario. Quindi... ci sta cercando. Vabbè. Mi sono scappato. Ok, allora alla prossima puntata. Cosa è il vino? Lava i piatti. Mentre... Cerca di spiegare il meno acqua possibile. Gioia mia. Mentre Emanuele... Ciao. Questa volta è cambiato gioco. Come si chiama questo gioco? Pokémon Unite. Ah, Pokémon. Ok. Per piacere. Signore, signori. Una cosa angosciante. Emanuele... Un infortunio grave. Sì. Sei infortunato di brucia. Soffre... Come... Come un cane sta soffrendo. Brucia, brucia. Brucia. Un teatro. Chi sei tutti i pila? Ma perché? Ma dov'è la ferita? No, non l'ho capito. Emanuele. 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 Qual'era? Praticamente non hai niente Emanuele. Puoi stare le ponte di pila direttamente. Ok. Dai Emanuele. Dai. Allora. Ciao. Allora, dopo il sanguinamento di Emanuele. Del ginocchio che adesso non c'ha... Niente. Allora, non c'ha niente. Emanuele. Ci siamo spostati. Abbiamo fatto parecchi chilometri. Circa un'ora e mezza di strada. E poi rispostarci un'altra volta. Perché là non si poteva più sostare con i canteri. E siamo arrivati qua. A Marina di Ragusa. Stavolta passeremo una notte qua. Siamo, per dire, sulla strada. Però è una cosa... Una cosa un pochettino diversa. Perché qua c'è una giostra. Ah, questa serviva. Salvi, ciao. C'è una giostra. E una piazzetta. E il nostro capo è parcheggiato. Lungomare. Ragazzi, è un lungomare, diciamo. E così comincerà il secondo episodio. Sì, il secondo episodio comincia... No, finisce così. Perché il primo già è stato pubblicato. Il secondo episodio però finisce così. Eh, il secondo episodio comincia così. Domani vi racconterò un pochettino. Se il primo episodio finisce adesso, e il secondo episodio comincia così. Comunque, a me questo posto piace perché... Scusami, mio figlio c'è un po' di confusione. Il primo episodio già è stato pubblicato. Questo è il secondo episodio che ancora devo pubblicare. Eh, domani comincerà il terzo. Eh, va bene? Chiaro?